DITEMI Come siete arrivati all'isola che non c'è? Michael! John! Siete... I bimbi sperduti. Dal primo all'ultimo. Ma non siete solo maschi. Allora? Cos'è questo posto? Casa nostra? L'ha trovata Peter. Come ha trovato tutti noi. Come ha trovato me? Peter Pan? Aspettavate qualcun altro? Che ne dite, ragazzi? Pronti per l'avventura? Sembra lontano, lontano. Meno di quanto tu pensi. Che cos'è che ti spaventa, amore? Forse non voglio crescere. Stringi il passato nel cuore. Ma il passo successivo dipende da te. Wendy, Moira, Angela, Darling. Dov'è Peter Pan? No mo' No mo' Lontano. Spendiamolo.